Il tuo nuovo singolo si intitola Idio, scritto da Tony Maiello e Simonetta Spiri. Io la definisco una vera e propria preghiera laurica, con un arrangiamento inizialmente minimale, quasi etereo, e che poi esplode nell'inciso con la tua voce. Sì, ma guarda, il brano è esplosivo. Io l'ho imparato con entrambe le versioni, sia la versione di Tony sia la versione di Simonetta, perché volevo capire come fosse nato il brano. Devo dire, mi sono innamorato subito del brano e ho convinto, cioè ho convinto. Lo ci ho provato inizialmente con Simonetta, perché era un brano che inizialmente è stato scritto da Simonetta e Tony per Simonetta. Invece poi a distanza di qualche anno ho detto, senti, io, lei, proprio lei mi disse, io ho questo brano, secondo me va bene che lo faccia tu, e mi ha fatto questo regalo. Per iniziare un nuovo percorso artistico, un nuovo progetto più che percorso, mi è sembrato giusto iniziarlo in questa maniera. E so che stai lavorando tutto.